Ciao a tutti, oggi mi trovo qui all'Eurac in compagnia dell'ingegnere Martino Gubert e sono venuto a vedere l'innovazione delle facciate per i nostri condomini che useremo al posto del cappotto. Andiamo a vedere insieme l'ingegnere questo interessante sistema. Eccoci qua, come potete vedere ci sono dei provini di facciata, quello che vedete è fotovoltaico. È un fotovoltaico che può essere applicato in facciata, quindi molto ben integrato e vi produce energia e quindi vi abbassa le vostre bollette alla fine del mese. Come potete vedere la facciata è costituita da uno strato isolante, che è uno strato che permette di isolare l'edificio 12 a 16 a 20 cm, al quale viene applicata una parete, diciamo un rivestimento fotovoltaico. Come potete vedere può avere diverso colore, diversa finitura e è facilmente applicabile. Oltre a questo abbiamo anche tipologie di finestre, che le chiamiamo finestre smart, in cui si possono andare ad integrare sistemi di ombreggiamento, quindi per permettere di limitare l'ingresso del sole, quindi del calore, durante il periodo estivo e permettere che arrivi nel periodo invernale. Come potete vedere ci sono anche soluzioni che permettono una ventilazione naturale all'interno dell'ambiente. Per finire abbiamo anche l'integrazione con il verde, cioè le facciate possono recuperare l'acqua piovana. Ecco qui. Ecco qui, adesso sicuramente siamo in un periodo in cui la natura deve esplodere, ma abbiamo una facciata sempre prefabbricata, in cui la parte esterna è verde, come potete vedere, e che può essere ben integrata anche con diverse soluzioni di involucro. Quindi questo è l'edilizio del futuro. Ecco, tanto grazie. Oggi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che è possibile isolare gli edifici, i condomini, senza utilizzare ponteggi, perché questi sistemi prefabbricati si possono praticamente isolare gli edifici senza utilizzare conteggi o sistemi complicati, perché con un sistema prefabbricato in legno, che è qui dietro a questa facciata, è possibile isolare le facciate in pochissimo tempo, grazie appunto alla prefabbricazione. E inoltre cosa ha questo sistema di monte innovativo? È l'integrazione con l'impiantistica. Le facciate, infatti, sono facciate fotovoltaiche che servono per produrre energia che è data dal sole, come oggi, e va ad alimentare i nostri pianti, sia per raffrescarli che per riscaldarli. Perciò questo sarà quello che useremo in futuro per isolare i nostri amati condomini, che attualmente consumano molta energia e noi in questi sistemi andremo a recuperare. Bene, ti ringrazio dell'accoglienza, ringrazio l'Eurac per aver mostrato questo interessante sistema, e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Alla prossima!